novità disneyland paris 2024 subito dopo la sigla ciao a tutti amici di oltre lo sguardo benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlerò delle novità 2024 di disneyland paris e questo è il video che fa parte della rubrica il mondo disney di oltre lo sguardo oggi vi parlerò delle novità di disneyland paris 2024 andiamo a visualizzarle pian piano ma prima di iniziare come sempre non possono dirvi di iscrivervi al canale di attivare la campanellina per seguire i prossimi contenuti che oltre lo sguardo inserirà per non perdervi nessun contenuto perché i video ne arrivo sono tanti soprattutto sui più rubriche quindi rubrica viaggiamo rubrica rubrica dei parchi rubri tante 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 tanti contenuti in arrivo per tutti per tutte le rubriche quindi partiamo la prima novità che aprirà le porte ad un nuovo spettacolo di droni con le luci sul castello a ci tengo a precisare una cosa prima che commenti stupidi arrivano questo video lo sto registrando un po in ritardo perché ho avuto un problemi tecnici quindi ho ritardato a registrare questo video quindi sicuramente quando sto dicendo queste novità queste novità sono già in atto quindi prima che voi cominciate a dire bla 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 vi dico questo già in anticipo perché per vari motivi che non vi sto a dire sto facendo in ritardo questo video quindi e lo vedrete in ritardo e quindi sicuramente queste cose che sto dicendo magari sarà sicuramente saranno già pronte o quasi per essere pronte quindi partiamo con la prima novità che aprirà le porte ad un nuovo spettacolo di droni con luci sul castello quindi quanto pare uno spettacolo di droni con tantissimi toni che fanno dei giochi di luci quindi proprio sul castello a disana paris poi l'attrazione storybook e tutta l'aria sarà visto resta ristrutturata scusatemi mi sono imbarbugliato sarà ristrutturata e aggiunte nuove novità quindi nuove storie nuove fiabbe quindi molto bello se avete visto il video di oltre sguardo quando è stato quando è stato a disana paris qualche anno fa io ho fatto proprio il video dell'attrazione storybook e vi posso dire che è meraviglioso veramente e sapere che stanno aggiungendo nuove storie quindi nuove fiabbe perché fai proprio un percorso attraverso le fiabbe quindi è molto 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 bello quindi molto bello sapere che stanno aggiungendo le fiabbe quindi bellissimo e speriamo presto sia di nuovo perché non so se già adesso se cominceranno a breve però i lavori dovrebbero cominciare io se sono cominciati non so a breve poi parliamo anche della nota di store tour star tour che è il simulatore di ispirato star wars che subirà delle nuove scene quindi delle nuove aggiornamenti quindi avrà anche lui delle novità quindi è molto bello sapere che si stanno spingendo a rinnovare sempre sempre di più e poi una l'ultima delle novità è che l'area usata per lo spettacolo di show di stunt show ora sarà sostituito da uno spettacolo ispirato ad alice nel paese delle maraviglie chiaramente io ho letto per non dimenticarmi nulla e sì quest'area che è dedicata appunto per gli stunt show per gli spettacoli di stunt show verrà utilizzata per uno spettacolo ispirato ad alice del paese del paese delle maraviglie molto bello molto interessante sicuramente lo sguardo cercherà di ritornare presto io sto aspettando di tornare anche perché ci sono delle novità quanto riguarda star wars disney frozen i rumor se non solo anche certezze però arriverà un video apposito non voglio mischiare le due cose perché sono volevo voglio concentrare tutti questi sono il video delle novità 2024 poi arriverà il video dove parlo appunto di frozen e star wars e le novità i rumors che ci sono quindi spero che questo video vi sia piaciuto ciao a tutti al prossimo video da oltre lo sguardo ciao a tutti